Recentemente qua su questo canale vi avevo riportato quella che è stata l'esperienza diretta quando una mattina, qualche giorno fa, sono andato qua in una filiale vicino per poter parlare con un responsabile della clientela retail e per poter iniziare a valutare l'opportunità di una prede libera di un mutuo per un potenziale investimento immobiliare futuro. In quel video in maniera del tutto trasparente e leggera vi raccontavo come si era svolta quella mattinata e cercavo di offrirvi una serie di osservazioni che spero che possano essere state utili e di rilievo. In questo video oggi però entraremo nel dettaglio di quel prodotto che ho richiesto e nello specifico nell'offerta di Intesa San Paolo definita mutua in tasca. Una particolare tipologia di finanziamento che secondo me ben si rispecchia con l'idea e con il concetto di investimento immobiliare di cui proprio vorrei parlare oggi su questo canale. Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di investimenti immobiliari, nello specifico anche di finanziamenti perché ti ricordo che stiamo vivendo un periodo davvero unico e eccezionale nella storia quello di tassi di interesse ai minimi e quindi dovremo comunque cercare di approfittare di questa situazione che forse non si ripeterà in futuro per prendere eventualmente a prestito dei finanziamenti da poter sfruttare per potenziare i ritorni dei nostri investimenti. Prima di iniziare però ti chiedo di lasciare un bel mi piace qua sotto perché questo sicuramente ci aiuterà ad emergere all'interno dell'algoritmo di YouTube e non dimenticate di iscriverti al canale qualora tu non l'avessi già fatto attivando anche la campanella riceverai ogni aggiornamento sui prossimi video che usciranno a tema finanza personale e investimenti. Nella sostanza quindi che cos'è una predelibera su un mutuo? È una particolare tipologia di finanziamento che non viene erogata da tutti gli istituti di credito solo da alcuni e che ci offre la possibilità di sapere in anticipo qual è l'importo massimo che la banca potrebbe erogarci per l'acquisto del nostro immobile. Una volta completata la fase di istruttoria e ricevuto quindi un parere positivo ed una delibera da parte della banca potremmo in base anche all'importo massimo che siamo stati in grado di ottenere agire di conseguenza e quindi individuare un immobile che rispecchia determinate caratteristiche quindi un certo limite di prezzo oppure completare una trattativa che avevamo già bozzato prima aspettando magari il feedback finale della banca. Questo infatti ci offre due grandissimi vantaggi il primo è che solitamente individuiamo l'immobile poi facciamo una trattativa dove fissiamo un prezzo e poi iniziamo l'iter del finanziamento ma potremmo correre il rischio che tutto il processo venga bloccato perché magari la banca non ci finanzia l'importo che ci aspettavamo e quindi non riusciamo magari a comprare quel determinato immobile andando ad investire una somma maggiore rispetto a quella che purtroppo ci attendevamo all'inizio. Con questa tipologia di mutuo non recorriamo questo rischio di interruzione del processo perché fin da subito sappiamo qual è l'importo che la banca ci concederà. Dall'altro lato il secondo vantaggio è che la fase di istruttura che solitamente è quella più lunga più lenta viene fatta fin da subito e quindi una volta ottenuta la delibera il processo è molto più veloce in quanto le fasi di perizio oppure la fase di completamento della documentazione finale non sono sicuramente impegnative quanto lo è l'istruttura iniziale. Una volta ottenuta la delibera da parte della banca però abbiamo un periodo limitato in cui la banca ci mantiene quell'importo massimo finanziabile che varia a sei mesi quindi non è un importo effettivamente lunghissimo e quindi dovremmo avere comunque bene in mente qual è l'immobile che vogliamo individuare o perlomeno le caratteristiche di quell'immobile che vorremmo comprare oppure dovremmo comunque già avere una sorta di trattativa più o meno abbozzata che dobbiamo essere in grado di concludere da lì ai prossimi sei mesi. A chi si rivolge questa tipologia di mutuo? Può essere rivolta solo alla clientela retail e a cittadini italiani e non ma nel caso di stranieri senza cittadinanza italiana è importante che siano stati residenti per almeno 24 mesi nel nostro paese e tutto questo a condizione che l'immobile che si va a acquistare è nel suolo italiano. Perché quindi questo mutuo ben si adatta come avevo detto all'inizio del video ad un potenziale investimento immobiliare? Perché sicuramente ha delle caratteristiche molto interessanti che andiamo adesso a vedere nel dettaglio. Partiamo dal dire che l'importo minimo finanziabile è 30.000 ma qualora si scelga per un finanziamento con long to value superiore all'80% si può allora richiedere una somma fino a 300.000 euro. Se avete seguito i miei video in passato sapete che richiedere un finanziamento con un long to value superiore all'80% ci aiuta dal punto di vista della massimizzazione dei rendimenti e questo potrebbe quindi aiutarci ad aumentare il nostro patrimonio finale a seguito del completamento dell'operazione a discapito magari anche di un costo del credito superiore. Dall'altro lato un'altra caratteristica è che comunque i tassi di mercato sono competitivi anche per una tipologia di finanziamento comunque non tradizionale e non offerta da tutti. Per quanto riguarda i tassi di interesse anche questi sono competitivi rispetto agli altri istituti di credito soprattutto ricordandoci che questa tipologia di finanziamento non viene offerta da tutti. Giusto per darvi un'idea al momento in cui sto registrando questo video ovvero dicembre del 2021 per un mutuo con una durata lunga ma un long to value intorno all'80% siamo su un tasso fisso dell'1.50% anno all'aumentare del long to value fino al massimo del 95% il tasso aumenta ad un 2.50% di tana annuo che sono comunque tutto sommato dei tassi di interesse competitivi con lo standard di mercato attuale. Un'altra caratteristica che ci fa capire perché questo mutuo è adatto a un potenziale investimento immobiliare è che qualora avessimo meno di 36 anni potremmo comunque richiedere per una durata di 40 anni quindi 10 anni superiore allo standard tradizionale di 30 anni e questo se avete un po' seguito anche i video e state cominciando a capire le logiche dietro a un investimento immobiliare le logiche dietro alla leva finanziaria e ai ritorni una durata più lunga molto probabilmente aumenterà comunque la rarar del nostro progetto. Per quanto riguarda poi perizia di istruttoria queste possono variare a seconda dell'importo massimo richiesto ma comunque sono assolutamente in linea di mercato anzi addirittura anche queste possiamo ritenerle competitive in quanto non andremo a pagare delle cifre particolarmente alte. Per quanto riguarda l'assicurazione poi non sono presenti delle informazioni più precise all'interno del sito ma comunque anche qua non mi aspetto che ci siano delle cifre fuori di mercato in quanto comunque viene sempre offerta da una società all'interno del gruppo Intesa San Paolo. Per quanto riguarda quelle che vengono definite spese correnti di gestione del mutuo che andremo a pagare per tutta la durata queste sono presenti cosa un pochino fastidiosa onestamente ma se si ha comunque un'età inferiore a 36 anni vengono totalmente azzerate. Oltre a tutto questo Intesa San Paolo però vi offre anche un'altra opportunità ovvero su questa tipologia di mutuo è possibile richiedere un anticipo un anticipo pari al 10% dell'importo poi erogabile ma con un massimo di 75.000 euro e questo anticipo è una sorta di linea di credito che si va ad aprire con la banca aggiuntiva al mutuo e che ci serve eventualmente per pagare la capare iniziale oppure le spese notarili o le spese per l'agenzia cosa ci sia un intermediario immobiliare. Attenzione però su questa nuova linea di credito si vanno a pagare comunque degli interessi che verranno chiusi nel momento in cui viene erogato il mutuo e qualora dopo sei mesi non si completasse la procedura dobbiamo comunque ridare indietro l'anticipo e il pagamento degli interessi. Quindi in conclusione possiamo dire che ci sono davvero tante caratteristiche per cui possiamo affermare come questa particolare tipologia di finanziamento veramente si adatta a colui che è alla ricerca di un investimento immobiliare magari per una seconda casa perché da un lato permette di avere subito una prede libera bancaria prima ancora di effettuare tutte le altre attività e dall'altro ci sono come abbiamo visto in questo video una serie di caratteristiche che ben si adattano al concetto di investimento immobiliare. Inoltre ricordatevi che una volta ottenuto l'importo finanziabile possiamo poi prendere una serie di decisioni che talvolta ci vengono richieste prima ancora di iniziare la fase di istruttoria ovvero a seguito dell'importo massimo finanziabile andremo a decidere nel caso la durata oppure andremo a decidere il tasso di interesse e dietro questa tipologia di finanziamento vi sono davvero tanti tassi di interesse sia fisso che variabili tradizionali ma anche opzioni bilanciate e molte opzioni quindi le opzioni miste. Insomma nella sostanza è davvero una buona opportunità che perlomeno potremmo prendere in considerazione per una prima analisi spero quindi in questo video di aver fatto una panoramica su questa particolare tipologia di finanziamento e spero di avervi dato anche uno spunto qualora qualcuno di voi fosse veramente interessato a fare un investimento immobiliare ricorrendo anche a questa tipologia differente sia di finanziamento che di processo. Il video per il momento finisce qua vi terrò sicuramente aggiornati e vi saluto al momento e noi ci vediamo sempre qua su questo canale ancora una volta sicuramente per parlare di finanza personale e investimenti nel mondo del lavoro. Ciao!